Una persona anziana ma gravemente malata, potremmo dire in fase terminale di vita. Era una paziente neoplastica con un grave tumore al polmone, diagnosticato 8 anni fa e quindi il suo sistema immunitario era gravemente compromesso. Pesava appena 35 kg distribuiti su un'altezza di 1,70 m, un fisico già pesantemente debilitato da anni di battaglia contro il cancro, privo di difese e immunodepresso. Così l'aver contratto il West Nile è stato il colpo finale. Il primo decesso nella marca legato alla complicazione del virus del Nilo è una 74enne residente in comune ai confini con il San Donatese ricoverata da una settimana nel reparto di medicina dell'ospedale di Oderzo. La donna è ispirata stamane dopo che le sue condizioni si erano velocemente aggravate in pochi giorni. Era una paziente in stato soporoso, sono lenta e quindi i medici hanno pensato di fare una serie di esami pensando a una encefalite e quindi è stato riscontrato questo virus West Nile. Quello di stamane è il terzo decesso in Veneto legato al virus, sempre in pazienti già gravemente malati. Complessivamente i casi di infezione accertati sono poco meno di 65 nella marca, ma tra questi si tratta soprattutto di forme lievi e una ventina con forme neuroinvasive a diversi livelli di gravità. I numeri sono un po' più elevati rispetto all'anno scorso, però diciamo che è sotto controllo questa epidemia. Per oltre il 90% si tratta di una patologia minima rappresentata da febbricola di cui il paziente in genere non se ne accorge, che dura uno o due giorni. In meno dell'1% c'è un coinvolgimento più ampio che si arriva fino a patologia di encefalite. Dei cinque casi riscontrati nella marca, quasi tutti riguardano situazioni di deficit immunitario, tranne uno. In un solo caso abbiamo avuto un atleta che però era già febbrile e ha voluto comunque fare una gara pesante e quindi ha creato un'immunodepressione che lo ha portato ad avere delle complicanze che poi si sono risolte.